Buonasera, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. La Rai è nella brocca. Pierino è stato frainteso. Il cielo è sempre più blu. La casa non sta in piedi da sola. Il mediaset stat virus. Luca era gay. Finché la barca va, lasciala andare. Il nero torna di moda. Giacomone Bacia Maometto. Mio fratello è grande. Buonasera. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.